Da poco più di un mese è entrato in vigore il decreto attuativo sulle comunità energetiche rinnovabili e Cava dei Tirreni, grazie all'impegno di Lega Ambiente Terra Metelliana, diventa lo scenario di una tavola di confronto tra cittadinanza e alcune delle maggiori istituzioni del territorio. L'evento è in programma per sabato, 16 marzo, al complesso monumentale di San Giovanni a partire dalle ore 10. Dopo gli ultimi e recenti interventi che hanno fatto chiarezza sul sistema incentivante e sulle regole legate allo sviluppo delle comunità energetiche è il momento ideale per cogliere l'opportunità offerta a cittadini, enti del terzo settore, enti pubblici e aziende in nome di un processo di transizione ecologica e culturale che non può essere più ritardato. L'obiettivo alla base dell'evento, che vede la forte condivisione della BCC Montepruno, molto attenta e sensibile a queste dinamiche, oltre che già coinvolta concretamente in progetti della specie, è illustrare i vantaggi e i passaggi per prendere parte o realizzare ex novo delle comunità energetiche, facendo un approfondimento sulle opportunità, sulle competenze professionali richieste e sulle occasioni lavorative che si andrebbero a generare. Tra gli interventi iniziali è prevista la presenza della Banca Montepruno con il responsabile della Segreteria di Direzione, direttore della Fondazione Montepruno, Antonio Mastrandrea.